Devono essersi ispirati al personaggio di fantasia e tenante della serie Mission Impossible, i ladri che per la terza volta nel giro di 50 giorni si sono introdotti nei magazzini dell'azienda di confezioni di alta fascia St. Andrews di Bellocchi. Il commando, composto da tre o forse più persone riprese dalle telecamere di sorveglianza, tutte travisate in volto, ha praticato un foro nel tetto del magazzino e calandosi dall'alto con grande destrezza e deludendo gli impianti di allarme, è penetrato all'interno della struttura dove i capi confezionati erano belli e pronti per la spedizione. L'effrazione e il furto dei capi deve essere avvenuta in una finestra di tempo che va dalle 21 di lunedì sera fino alle 1.30 di martedì, tempo nel quale la banda avrebbe asportato oltre 70 capi. L'inventario preciso è ancora in fase di definizione causando un danno commerciale all'azienda di svariate decine di migliaia di euro in un periodo così cruciale dell'anno. Vista la quantità di capi esportati non è da escludere l'utilizzo da parte dei malviventi di più mezzi con cui portare via la refurtiva come non è da escludere che si tratti dello stesso gruppo che a cadenza e quando ha la certezza che i magazzini sono pieni entra in azione. Su questo episodio, come sugli altri, indaga il nucleo investigativo della compagnia carabinieri di Fano.